Non raggiunge il quorum il referendum sulla giustizia che al momento su quasi 8.000 enti conteggiati su 9.000 supera di poco il 20,9% degli aventi diritto al voto. Erano cinque i quesiti proposti agli italiani. Il primo quesito relativo alla legge Severino sulla non candidabilità dopo una condanna, il secondo sulla custodia cautelare, il terzo sulla separazione delle funzioni per i magistrati, il quarto quesito sul voto dei membri laici dei consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati e infine il quinto quesito sull'abolizione della raccolta firme per l'elezione dei togati al CSM. Le ragioni del flop possono essere spiegate sicuramente dai quesiti posti fin troppo tecnici e specifici per interessare gran parte della popolazione ma anche da un sempre più crescente disinteresse alla politica da parte degli italiani testimoniato anche dal calo alle elezioni comunali. In provincia di Messina comunque l'affluenza è stata maggiore rispetto alla media italiana al 36,4% dato anche il gran numero di comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative. Tra i dati più alti vi sono Merì all'81,4%, Castro Reale al 79,4% e vota da fermo al 77%. Tra gli altri a Barcellona Pozzo di Goto ha votato il 14% degli aventi diritto, il 12,7% a Patti, il 12,2% a Milazzo mentre a Capodorlando l'11,4%.